Musica Buonasera, buonasera a tutti e bentornati alle tribune di Rai Parlamento. Ultima settimana di campagna elettorale, prima delle elezioni europee di domenica prossima e ultima settimana per i confronti serali con i rappresentanti delle liste nazionali. Io sono Anna Maria Baccarelli e saluto anche chi ci segue per radio. Stasera cominciamo con i primi tre osfidi, per loro una sfida a suon di domande e risposte dai ritmi molto serrati. Ve li presento subito Carlo Piana del Partito Pirata, Cristiano Ceriello del Partito Animalista, Elena Grandi di Europa Verde. Buonasera e benvenuti a tutti. Buonasera. Allora, rapidamente vi ricordo le regole di questo confronto. Voi avrete un minuto, non un secondo di più per ogni risposta, altrimenti interverrà implacabile il nostro gong che automaticamente spegnerà i vostri microfoni. Ma ognuno di voi avrà due bonus, ossia la possibilità di chiedere, alzando la mano, il diritto di replica per due volte, ogni volta per 30 secondi. Cominciamo. Primo giro di domande che è più che altro un giro di presentazione. Stasera abbiamo due liste al debutto, il Partito Pirata e il Partito Animalista, e un ritorno, quello dei Verdi. Piana, cominciamo con lei. Avvocato, esperto di nuove tecnologie, di libertà digitali, ora in campo con il Partito Pirata, ma serviva un nuovo partito come quello cosiddetto di Internet, come venite definiti, e per fare cose in Europa? È un partito che non c'era, per cui ci voleva un partito come il Pirata, che tra l'altro è un partito che non è nuovo, ma in Europa è presente da diversi anni e nasce in Svezia, ma ha una rappresentanza in vari paesi d'Europa. Noi ci presentiamo come un partito unico europeo, con un solo programma deciso a livello europeo, in cui le varie declinazioni dei singoli partiti nazionali portano avanti le singole esperienze nei singoli stati. Noi ci presentiamo anche con un'istanza fortemente europeista, verso una nuova Europa, un'Europa più vicina ai popoli, più vicina ai cittadini e meno vicina ai governi. E poi chiaramente la tecnologia Internet, lo vediamo in questi giorni in cui le battaglie, le guerre si giocano su posizioni pseudo commerciali, ma in realtà sulla tecnologia dell'informazione, ci sembra che chi si occupi di questo abbia diritto di cittadinanza in questo scenario. Grazie Ceriello. Allora, gli animalisti di Germania e Olanda hanno già due eletti nel Parlamento europeo uscente, ora ci prova anche l'Italia con un suo partito, una bella sfida, ma non era più semplice cercare un'alleanza magari con alcuni dei partiti che hanno comunque una sensibilità alla causa animalista, partiti che vanno dai Verdi a Forza Italia? Sì, ha detto bene, diciamo che noi nasciamo dall'Europa ed è appunto in Europa che stiamo cercando di andare, proprio dalla sensibilità del partito animalista olandese e tedesco, che come noi hanno avuto questa visione, c'è che l'ambientalismo del ventunesimo secolo passi per la salvaguardia dei diritti degli animali, ambientalismo e animalismo che spesso vengono parasafrasati dagli altri partiti, ma non basta dire sono un ambientalista, sono un ecologista, sono un animalista per essere appunto un vero ecologista, ma bisogna avere un'idea di futuro. Quando noi leggiamo Green Economy leggiamo delle parole spesso vuote, sappiamo che la Green Economy può essere fatta dall'agricoltura come dall'industria, quando vediamo la parola energie rinnovabili tutti i partiti non ci fanno capire se sono per l'eolico, per il solare, per il geotermico, per le biomasse. Noi in 13 grandi punti che sono sul nostro programma, che invito a vedere, abbiamo fissato degli obiettivi chiari, precisi, inequivocabili, che dal benessere degli animali portano alla salvaguardia della natura e fanno gli interessi di noi umili. Quindi la nostra visione di futuro è quella che passa per la salvaguardia dei diritti animali che può essere utilizzata da un partito animalista. Zonga anche per lei, grandi, allora tornano i Verdi, alleati di possibili, una alleanza che però scricchiola subito perché Civati molla dopo le polemiche su presunti candidati di destra. Bonelli bolla l'episodio come un equivoco, tutto chiarito per la vostra lista? Ma per quello che ci riguarda sicuramente è chiarito, chiaramente non c'è neanche da discutere del fatto che i Verdi da sempre sono antifascisti e hanno nel loro DNA questa caratteristica certa. Credo che sia stata anche una montatura dei media più di quanto in realtà la cosa non sia stata, stiamo facendo tutti campagna per queste elezioni europee e direi che mi premerebbe di più portare il discorso su il vero punto critico che è quello di un'attenzione maggiore ai cambiamenti climatici e al grave problema a cui noi stiamo andando incontro. che è molto più grave di una polemica mediatica e che invece riguarda appunto l'emergenza a cui noi stiamo andando incontro. Un'emergenza per cui noi dobbiamo pensare da adesso in avanti che dobbiamo cercare di salvare il futuro dei nostri figli, dei nostri bambini, delle nostre donne e di chiunque abbia giustamente il diritto di respirare sano, mangiare sano, possibilmente senza veleni e di pensare a una vita futura non minata da malattie. E noi di temi concreti vogliamo parlare stasera anche perché molte delle riforme approvate dal passato Parlamento europeo sono riforme concrete che hanno stabilito la fine del roaming, la riforma del diritto d'autore, le nuove regole sulla privacy, ma anche il taglio alle emissioni inquinanti per auto e camion, la messa al bando delle plastiche monouso, insomma cose concrete può fare l'Europa. Ceriello, ripartiamo da lei. Dossier chiusi ma tanti dossier ancora anche aperti, da quali priorità ripartireste voi? Sì, abbiamo tantissimi dossier aperti anche perché molti non sanno che la Commissione europea ha già fissato un'agenda di intenti dal 2019 al 2024. Quindi quando saremo eletti, quando saremo al Parlamento europeo ci troveremo già dei punti aperti. Si guarda alle emissioni, ecco la visione di futuro, si guarda alle emissioni come fattore inquinante, ma molti non sanno, ecco il tema animalista, animali, natura uomini, che il primo fattore di inquinamento sono gli allevamenti intensivi, che sono il primo fattore appunto di inquinamento sul pianeta e su cui dovremo lavorare in tutta Europa e lavoreremo, appunto per la loro abolizione e quindi per la salvaguardia della natura. Abbiamo ancora i trasporti di CO2 di animali vivi durante tutto il percorso dell'Unione europea, abbiamo un problema gravissimo che spesso anche dai partiti che si dichiarano ambientalisti non viene trattato, è quello dei pesticidi. Molti non sanno, pensano che la nostra agricoltura sia sana, ma non sanno che ad esempio su una mela c'è il trattamento di 26 pesticidi e quindi che di riflesso va sulla nostra salute, quindi abbiamo dei temi apertissimi che come animalisti e ambientalisti dovremo trattare al prossimo Parlamento. Vedremo anche il confronto che emergerà tra voi e i Verdi. Io ricordo a chi ci sta seguendo che il confronto sta andando in onda in diretta nella lingua italiana dei segni anche su Rai News 24. Grandi, ripartiamo da lei. Allora, plastica, altro grande tema, l'Europa è il secondo produttore mondiale di plastica dopo la Cina. È notizia di oggi che l'81% dei rifiuti dei nostri mari sono di plastica. Voi proponete nel vostro programma una tassa europea per la riduzione della plastica. Ho letto però anche una tassa contro le emissioni di CO2. Le chiedo, come pensate di convincere governi e imprese ad accettare queste misure? Beh, innanzitutto diciamo che i Verdi hanno già, i Verdi europei a cui noi facciamo riferimento, tengo a dire che noi siamo l'unico partito trasnazionale europeo e con un programma scritto insieme ai 28, sta ai partiti verdi dei 28 stati membri e insieme abbiamo redatto un programma che riguarda appunto la lotta ai cambiamenti climatici e da lì si declina e però attiene anche altri argomenti come poi magari dopo diremo. Io credo che sostanzialmente di tasse noi ne abbiamo già molte e quindi non dobbiamo pensare a tasse dirette che non sono queste, le tassazioni vanno sulle produzioni, le grandi produzioni nel caso. Teniamo conto che noi in Italia investiamo 19 miliardi di euro per supportare le energie fossili. Ecco, se noi cominciassimo a pensare di spendere, di non spendere quei soldi per le energie fossili e di convertirli per convertire l'uso della plastica, le aziende che fanno plastica e per le energie. Concluderà poi il suo pensiero, Piana, voi siete paladini della rete che è un mondo nel quale si confrontano, lo diceva anche lei, con lossi giganti, si fanno anche la guerra come oggi Google e Huawei. Come giudicate però, tornando alle cose concrete della nostra Europa, la riforma del copyright digitale e anche le nuove regole sulla privacy e se voi ne avreste altre da proporre? Ahimè, la riforma del copyright è nata con buone intenzioni, con buoni presupposti. Infatti la nostra parlamentare Giulia Reda era redattrice al Parlamento per la riforma del copyright. Purtroppo nel dialogo, anzi nel trilogo, tra le parti Commissione, Parlamento e Consiglio è stata snaturata e è stato invece dato un eccessivo risalto ad alcuni interessi particolari. Per cui noi questo intendiamo riformare il copyright e siamo molto preoccupati per l'implementazione negli singoli stati. Privacy, molto bene, noi siamo assolutamente per la privacy, solo che il regolamento generale tende a essere un po' troppo burocratico e a proteggere troppo gli interessi reali che si svolgono soprattutto anche sulla rete con la sorveglianza di massa a cui noi ci opponiamo. Non c'è sufficiente sicurezza per giustificare i livelli di spionaggio di massa a cui siamo sottoposti. Allora, terzo, a lei vuole replicare Ceriello. Sì, allora, molto velocemente quello che ci differenzia dai Verdi, lo dico agli elettori, leggete i due programmi. E cioè, insomma, se voi andate a leggere il programma dei Verdi, troverete un po' come la lettera di Babbo Natale che dice Babbo Natale porta amici la pace nel mondo. E cioè troverete un programma scritto a livello europeo pieno di buone intenzioni in cui non c'è una cosa concreta. Noi non capiamo se la caccia per voi deve essere abolita o regolamentata, non capiamo se la rivisezione deve essere alternativa o sostitutiva, non capiamo se voi siete contro gli allevamenti intensivi o meno. Per cui noi diamo temi concreti sul nostro programma, non Verdi in generale, perché così tutti i partiti sono Verdi. Vuole controreplicare Grandi di Europa Verde? Ovviamente siamo contrari agli allevamenti intensivi e nel nostro programma è scritto molto chiaramente che pensiamo a un'agricoltura e a un allevamento sostenibili, quindi tutto quello che riguarderà la produzione di carne e anche dei prodotti agricoli dovranno essere sostenibili e nel rispetto del diritto di tutti gli animali. C'è scritto, c'è scritto... Non mi sovrapponete, adesso sta controreplicando Grandi, lei ascolta, grazie. Mi fermo perché... No, no, prego, il tempo si è fermato. Tranquilla, puoi proseguire. Ecco, comunque questo volevo dire, perché non è vero che non è scritto nel programma, ma è scritto molto chiaro e quindi sugli allevamenti e l'agricoltura biologica... Bene, terzo giro di domande. Parliamo di economia e di ambiente, che sono due temi fondamentali di questa campagna elettorale che spesso si sovrappongono nei vostri programmi. Magari ci sarà anche l'effetto Greta, ma l'ambiente è la priorità assoluta per i giovani, viene addirittura prima della preoccupazione per il lavoro. Tra l'altro ricordiamo che l'80% comunque delle norme ambientali già provengono da direttive europee, quindi questo è un tema europeo, grandi. E di oggi la vostra richiesta al governo di dichiarare lo Stato di emergenza climatica, così come hanno fatto anche altri paesi europei. Le chiedo, quali sono le altre misure che secondo voi deve mettere in campo l'Europa per fungere da stimolo, da spinta poi anche ai governi nazionali? Beh, innanzitutto questa richiesta di emergenza climatica è importantissima perché dovrebbe porre il nostro governo nella condizione di agire. Noi stiamo assistendo a un assoluto nulla di politiche ambientali in questo momento, anche a molti sarcasmi del nostro Ministro dell'Interno. Sappiamo che questa cosa è ormai inderogabile e quindi chiediamo con forza che a una dichiarazione di Stato di emergenza climatica ci sia un piano di azioni. Chiaramente noi facciamo riferimento al gruppo dei Verdi Europei che in questi anni ha portato notevoli successi su questi temi, a partire dal divieto dell'uso di alcuni pesticidi e dei glifosati e dei neocatinoidi e anche ad arrivare ad esempio alla commissione d'inchiesta per il Dieselgate. Quindi noi stiamo lavorando per seguire e monitorare tutte queste faccende in Europa e noi come Verdi Europei con loro. Altro intervento fondamentale è quello che è stato fatto per il lavoro solidale. Piana, è interessante sapere anche se avete delle convergenze anche voi su questi punti dei Verdi. Io le chiedo, voi avete detto di apprezzare la legislazione ambientale europea fin qui messa in campo ma chiedete più coraggio e un accesso più facile a tutti i dati ambientali. Vi chiedo, per farci cosa e come vincere certe resistenze anche delle imprese su questo fronte? Allora, noi nonostante ci proponiamo come un partito per l'innovazione tecnologica e la telecomunicazione. Abbiamo un programma articolato anche di tipo ambientalista. Non lo facciamo perché è diventato una moda ma lo facciamo perché ne siamo convinti. Chiaramente l'accesso ai dati, la conoscenza è fondamentale per qualsiasi politica. Conoscere per deliberare. La conoscenza appunto dei dati sul cambiamento climatico, sui trasporti, sull'accesso alle tecnologie sono tutti dati importanti per elaborare una legislazione che sia basata sui fatti e non sulle opinioni o sulle impressioni o peggio ancora sulla propaganda. Noi siamo chiaramente per uno sviluppo della rete come veicolo per trasportare bit e non atomi, per trasportare informazione e non persone, per ridurre la necessità di trasporti e per avere un maggiore accesso, ripeto, la cosa fondamentale, un maggiore accesso alla conoscenza. Ceriello, per contrastare il cambiamento climatico, il Partito Animalista auspica una rivoluzione, ho letto nel programma anche alimentare. Cioè voi chiedete agevolazioni fiscali, finanziamenti per una produzione alimentare vegetale per l'agricoltura a chilometro zero. Dunque questi sono nuovi obiettivi per la PAC, secondo voi per la politica agricola comune? Ma assolutamente, come vede torniamo al tema che stavo dicendo prima, per inciso dico alla collega che se mi trova animali nei circhi, abolizione della caccia nel programma di Verdi, le offrirò un caffè a Napoli. Detto ciò, le dico subito, molto semplicemente, allora noi abbiamo questa visione, siamo 7 miliardi di persone sulla Terra e ovviamente sappiamo bene da un rapporto dell'ONU che non ci ha fatto campagna elettorale che il pianeta va verso la produzione di proteine vegetali, che non è una mera idea, non è detta da me ma è il futuro. Tra l'altro noi in Italia produciamo proteine vegetali già da dieci anni e cosa succede? Che negli Stati Uniti Beyond Meat è stata apicotata 4 miliardi di euro, Impossible Food 2 miliardi di euro e la notizia di oggi è che anche Good Company, un'altra start-up americana, sta facendo business e quindi quello che è un dovere, cioè il benessere degli animali che salvaguarda l'ambiente e fa l'interesse degli uomini, può essere una grande opportunità per il nostro paese su cui noi dobbiamo investire nell'agricoltura con tax credit, zone franche, golden tax, golden area, in cui davvero possiamo dare lavoro ai giovani che possono investire nel biologico e creare... Allora, siamo arrivati e abbiamo terminato il terzo giro, ricordo che due di voi hanno usato il diritto di replica e Piana ancora no. Cominciamo con il quarto giro. Dopo l'ambiente è il lavoro, l'emergenza, la seconda grande emergenza per i giovani, anche perché la disoccupazione in Europa è in calo, ma purtroppo noi per disoccupazione rimaniamo il terzo paese dopo la Grecia e la Spagna. Piana, quello sul lavoro via web e la cosiddetta gig economy è uno dei dossier ancora aperti sul tavolo del prossimo Parlamento. La gig economy, insomma, sono tutti quei lavori anche aperti grazie alla rete, ma lavori poco stabili. Servono, secondo voi, delle regole, delle tutele condivise? Allora, è un tema molto complesso e non è semplice descriverlo in un minuto, però da una parte è necessario avere delle tutele per i lavoratori e soprattutto per delle reti di sicurezza per quando il lavoro non c'è. La gig economy, però, è un elemento molto importante per riempire dei vuoti di lavoro e magari non per pianificare il futuro, ma per riempire dei vuoti di lavoro che il welfare altrimenti deve riempire con il reddito di cittadinanza e cose simili. è molto importante, però, che non venga affossato con un eccesso di regolamentazione. È difficile stabilire un equilibrio sufficiente, ma non può essere giustificato un intervento unilaterale da parte di un singolo Stato. Le soluzioni devono essere trovate in Europa, non necessariamente negli Stati nazionali, e le tutele della rete sono assolutamente importanti anche in questo senso. Ceriello, nel vostro programma prevedete, chiedete anzi, il completo passaggio alle fonti rinnovabili che darebbe anche dei risvolti occupazionali interessanti. Come incentivarlo? Questo passaggio? Assolutamente. Molti non sanno, tra l'altro, che il nostro paese è stato, fino a poco tempo fa, tra i leader nella produzione del solare. Ed ecco che torniamo sempre alla stessa domanda. Insomma, qual è la visione di futuro che hanno i partiti che si dichiarano ambientalisti, ecologisti, animalisti? Noi sappiamo che a livello europeo abbiamo quattro grosse fonti rinnovabili, che sono il solare, l'eolico, lo geotermico e le biomasse. Ovviamente noi non siamo per l'eolico perché noi abbiamo un paese che non può creare il vento che c'è nel nord Europa dove ci sono le multinazionali tipo Lavastas, ma siamo appunto per una creazione del solare, una creazione di fonti rinnovabili che cambino l'economia sviluppata con l'agricoltura. Quello che sta succedendo in Germania c'è che l'uso delle fonti rinnovabili facilita l'agricoltura ed è proprio nella nuova agricoltura, nell'agricoltura del XXI secolo, che passa per la produzione delle proteine vegetali e passa soprattutto con quello che stanno già vedendo gli altri stati, soprattutto negli Stati Uniti, quello che può essere un incentivo al nostro posto di lavoro perché i ragazzi meridionali meridionali non scappino più dalle nostre terre e rimandano... Grandi, dalla Green, ah, diritto di replica? Allora, prima di dare la parola a Grandi, diritto di replica per Piana. Ecco, un tema molto importante che passa sotto traccia è quello che si chiama il digital divide, cioè la differenza nell'accesso a Internet, proprio nell'infrastruttura, tra le zone ricche anche di accesso all'infrastruttura, alla rete, e le zone povere del Sud. Noi proponiamo un forte investimento, se qualche soldo deve essere investito, e se qualche soldo viene trovato, deve essere investito nelle strutture, nelle reti, nelle telecomunicazioni, perché questo consente anche di portare al lavoro dove il lavoro non c'è. Grandi, dalla Green Economy ci si aspettano anche ricadute occupazionali importanti, il modello da portare avanti, dite voi, è quello dell'economia circolare, auspicata è anche una riforma fiscale europea che vada in questa direzione, con quali strumenti sostenerla? E le chiedo, sono obiettivi compatibili con gli attuali vincoli di bilancio europei? Beh, iniziamo a dire che nell'ultima fiera di Ecomondo persone competenti, studiosi e scienziati hanno dimostrato che con un investimento pubblico di 7 miliardi noi avremmo un investimento privato nell'economia circolare di 14 miliardi, sono cifre che sono state rappresentate in un convegno all'interno di Ecomondo e con queste si creerebbero ogni anno 500 mila nuovi posti di lavoro, 400 mila nuovi posti di lavoro, questo per 4 anni. Perché le politiche la Green Economy e la risorsa? Semplicemente perché le politiche di austerity hanno dimostrato che l'Europa non sta crescendo e che la crisi non si risolve con le politiche di austerity. Ultima cosa che possiamo dire per quello che riguarda l'Italia e il dissesto idrogeologico a cui noi assistiamo nei nostri territori, se noi facessimo un piano di recupero invece di dover ogni volta affrontare le emergenze creeremmo lavoro e sicuramente non spenderemmo tanti soldi pubblici per recuperare quello che è il dato. Allora, lasciamo le tematiche più strettamente ambientali e affrontiamo per questo quinto giro il tema dei migranti perché è sempre più emergenza ed è anche fronte di polemiche ma è uno dei grandi temi di questa campagna elettorale. Ieri sera lo sbarco dei 47 migranti della Sea-Watch che ora è sotto sequestro, la rabbia del Vice Premier Salvini, le preoccupazioni dell'ONU per il decreto sicurezza bis che è all'esame del Consiglio dei Ministri di questa sera che prevede tra l'altro delle sanzioni per l'ONG che salvano migranti, anche però dei fondi per i rimpatri. Allora, io vorrei capire, per far capire a tutti gli elettori, a chi ci ascolta, qual è la vostra posizione su questo grande tema considerando che la riforma del diritto d'asilo è un altro dei dossier aperti sul tavolo del nuovo Parlamento. Ceriello, ripartiamo da lei. Voi avete una linea condivisa al vostro interno sul tema dei migranti? Ma sì, assolutamente, parafrasiamo una famosa frase che ha problemi grandi, non esistono soluzioni semplici, ma bisogna fare meglio. Assolutamente, noi molti non dicono che quasi tutti i migranti che arrivano nel nostro paese sono migranti climatici. Ecco che entriamo nel grande tema ambientale. È inutile alzare i muri, pensare di alzare i muri. Questo sarà uno dei grandi temi del nostro millennio e c'è in un pianeta di 7 miliardi di abitanti i cambiamenti climatici dove nell'Africa non c'è acqua avremo le prossime guerre che saranno per l'acqua. Ecco la rivoluzione vegetale, una bistecca di carne consuma 13 mila litri d'acqua. I bambini famosi ci dicevano noi animalisti i bambini morivano di fame e voi pensate agli animali. Assolutamente, i bambini morivano di fame o erano denutriti perché l'agricoltura era usata per i foraggi. E quindi ecco gli animalisti che hanno a cuore la tutela dell'ambiente, dell'agricoltura che si ripercuota direttamente per i paesi poveri. Abbiamo il Bangladesh che è sommerso dall'acqua per il cambiamento climatico. Quindi il problema di migranti si risolve con problemi climatici. Grandi, Europa Verde chiede un'alternativa equa all'attuale regolamento di Duplino sui richiedenti asilo. Quale? Dunque, il dossier è evidentemente aperto. Spiace che il tentativo di sistemare, di mettere a posto quello che necessita di essere messo a posto sia fallito anche, bisogna dirlo, per colpa del parere contrario sia della Lega che del Movimento 5 Stelle. Detto questo, noi quello che auspichiamo è chiaramente un sistema di corridoi umanitari che consentano un afflusso legale e non con il rischio a cui stiamo assistendo tutti i giorni per le persone che scappano da paesi di guerra o migranti climatici. è evidente che il dossier deve essere rivisto perché è evidente come diceva prima il collega che i migranti climatici sono una novità rispetto a anni fa. Cioè noi assistiamo a un fenomeno che è diverso da quello di chi scappa da una guerra e diverso da quello da chi scappa in cerca di benessere. C'è gente che scappa dai deserti, dalle alluvioni e da luoghi che non sono più vivibili. Quindi gli interventi dovranno essere fatti anche in questa direzione. Piana, il partito pirata propone una sorta di diritto d'asilo europeo con libertà di stabilirsi dove si vuole diciamo in Europa. Come funzionerebbe? Mi lasci dire prima che non è possibile che un paese si impicchi alla discussione di migranti per 47 o 49 persone che sbarcano da una nave. Il problema dei migranti è un problema molto più grave, molto più ampio e non è solo un problema ma è anche una risorsa. Bisogna vedere come lo si affronta. Non si può semplicemente andare sullo spot del singolo episodio. Noi proponiamo che il problema sia affrontato chiaramente in chiave europea e che quindi superando Dublino tutti i paesi si facciano a carico del problema dei migranti richiedenti asilo. Poi c'è tutto il discorso dei migranti economici di chi viene a cercare un lavoro e ha diritto anche di trovarlo. Tra l'altro noi siamo in deficit grave demografico dobbiamo fare qualcosa per colmare questo deficit. Non possiamo farlo in vent'anni non possiamo farlo in due anni non possiamo farlo in sei mesi dobbiamo rifarci anche l'immigrazione. Siamo al sesto e ultimo giro allora proviamo a proiettarci al 27 maggio a disegnare gli scenari post voto grandi in Europa se i Verdi dovessero diventare in qualche modo lago della bilancia per una alleanza più ampia del fronte europeista vi allereste con il Partito Popolare chiedendo quali impegni nel caso? Beh innanzitutto dobbiamo vedere quale sarà il risultato elettorale perché i Verdi partono comunque l'European Green Party sono la quinta forza europea e quindi questo li rende comunque forti in grado di trattare credo che qualsiasi accordo dovrà essere comunque vincolato a una serie di assicurazioni su dei progetti che devono essere molto chiari cioè chi sarà disposto a rinunciare alle famose politiche di austerity di cui abbiamo parlato e quindi a avviare una conversione ecologica dei processi produttivi un nuovo modello di sostenibilità un nuovo modello di sviluppo che preveda anche una fiscalità più equa e anche tutto quello che attiene ai diritti e ai temi dell'integrazione lì si potrà pensare di fare degli accordi però devono essere vincolati a una serie di impegni molto precisi che a oggi in alcuni partiti sinceramente noi ancora non abbiamo visto quindi penso che questo sarà la linea di rimente di questa nostra scelta Piana partito pirata finora i vostri due eletti sono stati nel gruppo De Verdi questa volta che farete date indicazioni? se avremo la forza necessaria chiaramente costituiremo un gruppo se no noi siamo pirati quindi siamo agili facciamo incursioni e quando serve ci occupiamo dei dossier senza pregiudiziali ideologiche logisticamente bisognerà affidarsi a un gruppo quindi vedremo probabilmente troveremo ospitalità in uno di quelli esistenti è chiaro che noi non siamo né di destra né di sinistra sulla riforma del copyright ad esempio ci siamo trovati sulle stesse posizioni di un partito che è assolutamente distante da moltissime posizioni che abbiamo e che è il Movimento 5 Stelle anche se loro hanno fatto un sacco di casino e hanno sbagliato molto della comunicazione però ecco su alcuni temi noi siamo assolutamente disposti a allearci anche col diavolo e andare dove serve per raggiungere gli scopi che sono quelli nel programma che chiaramente è molto esteso quindi ha molti a molti a molti chiaramente ognuno di voi esprime giudizi e opinioni personali Ciriello Ciriello se voi supererete il 4% dove andranno gli animalisti italiani in quale gruppo? Attualmente noi dobbiamo premettere questo cioè che il Parlamento europeo ha delle dinamiche molto particolari cioè tu ti inserisci si creano di gruppi anche in base ai tuoi obiettivi agli interessi che riesci a realizzare attualmente siamo nella sinistra europea verdi del nord il nostro sogno è quello appunto di creare un gruppo di animalisti europei cosa possibile anche perché abbiamo creato un partito Animal Politics EU che è assolutamente nuovo e con cui abbiamo sottoscritto un manifesto e in questo dico che il voto al partito animalista è un voto utilissimo proprio perché in questo gruppo animalista dove saranno eletti 5 o 7 deputati noi in Italia possiamo essere il primo partito degli animalisti all'interno di questo gruppo europeo se riusciamo e quando riusciremo a superare la soglia di sbarramento del 4% quindi la nostra collocazione è sicuramente quella di creare un gruppo animalista se non ce lo faremo sarà ancora un voto più utile quello dato al partito animalista ricalcando il voto utile perché riusciremo a creare un gruppo che farà prettamente gli interessi dei diritti degli animali della salvaguardia della natura e dei nostri interessi come uomini quindi animalisti votate animalista vuole anche replicare appena finito di parlare non può replicare a se stesso vuole anche replicare grandi allora facciamo prima replicare a grandi e poi a lei ecco io volevo aggiungere una cosa sul tema dei migranti perché si parla in questo periodo in maniera secondo me limitante di questo grande problema ma che può essere anche una grande opportunità in Italia noi i migranti in Italia producono quasi i migranti il lavoro dei migranti quasi il 9% del nostro PIL cioè equivale il loro lavoro al 9% del nostro PIL noi dobbiamo forse imparare a capire che dobbiamo ridimensionare questo problema e pensare che dobbiamo trovare dei canali giusti dei sistemi equi di una distribuzione concertata con l'Europa perché ha un problema globale e ci vogliono soluzioni globali ma è anche una ricorsa Ceriello sì volevo dire solo questo che purtroppo avendo molto spesso in televisione dei tempi limitati noi non siamo riusciti a delineare tutto il nostro programma che va appunto nella tutela delle famiglie per quanto riguarda lo scandalo dei costi dei prodotti veterinari anche l'overfishing quindi la sovrappesca che è uno dei grandi temi del nostro paese e proprio per questo noi faremo una chiusura di campagna elettorale diversa faremo 24 ore dalla mezzanotte del 23 di maggio alla mezzanotte del 24 di maggio ci sarò io 24 ore intere a parlare del nostro programma per cui chi ci segue potrà seguire tutto il nostro programma le nostre risposte se non vado prima all'ospedale risponderemo per 24 ore insomma queste repliche sono diventate un po' appelli finali grazie grazie a voi al partito pirata al partito animalista Europa Verde per essere stati gli ospiti di questo primo confronto serale di questa ultima settimana di campagna vuole replicare anche lei benissimo visto che è diventato una serie di appello finale avevo idea 30 secondi anche per lei voto utile è una formula per conservare l'esistenza se ci fosse stato sempre il voto utile alcuni partiti che adesso sono in Parlamento non ci sarebbero stati non si è mai troppo piccoli per fare la differenza non fatevi spaventare dal nome noi siamo un partito serio con professionisti che partecipano non politici professionisti e pensare pirata grazie a tutti voi il nostro tempo è davvero finito io vi do appuntamento a domani sera per un nuovo confronto sempre su Re3 sempre alle 21 grazie a tutti buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti